Il nodo della riorganizzazione scolastica viaggia in parallelo con un'altra problematica sollevata da studenti e genitori ormai diverso tempo fa e per la quale non esiste ancora una soluzione unica e condivisa. Stiamo parlando del nodo relativo ai trasporti, sul quale da diverse settimane si studiano soluzioni per poter rispettare le norme di distanziamento anticontagio. L'ultima proposta è arrivata pochi giorni fa dalla CNA, che ha chiesto di poter integrare il lavoro del servizio pubblico insieme alle imprese private. Come CNA Fita della provincia di Pesaro e delle Marche abbiamo da tempo chiesto alla regione, capendo quale sarebbe stata la situazione del trasporto scolastico alla riapertura del settembre, già dal primavera scorsa, di utilizzare e di interessare per integrare il trasporto degli studenti anche le aziende private di bus e di auto. Le aziende nella nostra provincia sono un centinaia, tra taxi, NCC e autobus, occupano quasi 400 persone. Sono aziende che in questo momento, da marzo, di fatto lavorano poco e a condizioni economiche molto scarse, per cui per loro sarebbe anche un'opportunità. Un'opportunità che però ad oggi ci rendiamo conto è anche per lo stesso trasporto locale, in quanto portare gli studenti della nostra provincia a destinazione delle loro scuole è diventato, e si è capito, che sarà un problema. Ci dispiace che la politica si sia accorta oggi di questa cosa, quando noi già dalla primavera diciamo che ci sarebbe dovuto mettere mano alla situazione. Siamo comunque a disposizione delle aziende pubbliche e della regione e dei comuni per poter svolgere il servizio. Le nostre aziende sono operanti in sicurezza, quindi potremmo integrare tranquillamente il servizio del trasporto pubblico locale con le imprese della nostra provincia che fanno trasporto passeggeri. Per quanto riguarda la situazione economica, quindi come dicevo prima, è di grande difficoltà per le imprese di trasporto persone, in quanto è mancato oltre il 60% del fatturato, considerando che poi per il periodo della quarantena è stato proprio il blocco totale delle attività. E quindi la grossa difficoltà economica per le nostre imprese, le quali vedono con difficoltà anche il futuro loro e dei loro dipendenti. Quindi abbiamo necessità di poter operare, ci mettiamo a disposizione sin da subito per integrare e per dare un servizio alla collettività. Per far questo occorrono risorse che la Regione, attraverso anche i fondi europei, dovranno mettere a disposizione.